ehi ragazzi buongiorno siamo al day 1 stiamo andando alla alla ricerca di nemo e sperando di non fare 0 12 su due turni qualcosa da aggiungere voi dietro voglio fare 0 13 0 2 drop oggi chiuderò 11 0 solo per voi ci rivediamo alla location ragazzi sempre dei uno stiamo nella location speriamo in bene di vincere se perdiamo va bene lo stesso io vittoria tu una 0 da pendolo una 0 da pendolo ehi ragazzi buongiorno dei due del dei due è rimasto vivo solo lui andefetter 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 michele scomparsa michele scomparsa michele ha perso bravito ha perso bravito fatti due e lo scopi andefetter ci vediamo in piedi ragazzi stiamo tornando dal nazionale abbiamo affondato la patta con i schiettini e poi ci ha affondato niente dopo la patta con i flander e ci vediamo al prossimo nazionale ciao prima del mese quei due